www.feyyaz.com Ma ma è lei? Ma che ci fai con tutti quei giocatori di sotto? Siamo a sapere chi sei. Sono Babbo Natale. Mi raccomando, non lo dirà nessuno. Ma che io lo dico? Devi sapere che Babbo Natale è dotato di una serie di superpoteri. Per riuscire a realizzare tutti i desideri. Eh, ma qui c'è un complitto di interessi con il genio della lampada. Ma che battuta imbecille. Perdone. Ma se io volessi diventare Babbo Natale dico... I superpoteri non basta. Quello che più conta è trasformarsi. Se uno vuole diventare Babbo Natale deve essere buono. Signori, la trippa! Sono buonissimo. Aveva Davide. Tu hai mai fatto qualche cosa per qualcuno? Ecco, questa è la mia lettera. Non l'è l'apitare? Tu ho Papbo Natale. Ti va di venire da noi la sera della vigilia? Magari grazie. Su, io poi alle undici e mezza mi devo aiutare l'amico. Quanti anni ha lei? 124. Certo, è uscito. L'altro giorno va dentro e dice... Guarda, io sono Babbo Natale. Il tutto questo è il Dio. Il tutto questo è il Dio. Hmmmm, come se non èullo. Faccio cosa di tutti tutti. Grazie a tutti.